Un anno bello, la vittoria al Transatolia faceva già capire che questa Dakar seri ottavo. Sono felice perché dopo due anni senza poter finire il Dakar, ritornare e finire l'otto, alla fine sono contento. E tutto il team anche. Vero, alla fine siamo cinque, tutti e cinque stiamo nel podium. Così perfetto, vi saluto a tutta la persona d'Italia. E perché sono contentissimo e perché Italia è la ostia. E Italia te espera. Grazie, ciao. Ciao.